E di 700 euro il bottino di un furto perpetrato ai danni di una sala giochi in via Camillo Genovese. I ladri, dopo aver scardinato la porta in ferro del locale, hanno fatto irruzione e rovistato, infine rubato la somma di denaro in piccolo taglio e altre monete rubate dalla slot machine. Rintracciato il proprietario, ha riferito di non avere alcun sospetto. Sempre i poliziotti delle volanti, durante un controllo del territorio in via Lamedeo, hanno avvistato due pregiudicati in motorino che alla vista degli stessi hanno accelerato e si sono immessi in via d'Antellighieri per cercare di sfuggire alle forze dell'ordine. E da lì è scaturito un inseguimento e bloccati due che nel frattempo cercavano di disfarsi di un involucro che poi è stato recuperato e i poliziotti li hanno perquisiti. Ed hanno trovato addosso al primo, nascosto all'interno della tasca anteriore dei jeans, un coltello a serramanico di genere vietato e addosso all'altro il conducente del motorino un coltello multiuso. Condotti in questura il 22enne ed il 19enne, è stato accertato che l'involucro conteneva anche 8 grammi di marihuana. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica, perso il Tribunale per i reati di porta abusivo e detenzione di armi, oggetti ad offendere, per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per esistenza pubblico ufficiale. Sono state inoltre riscontrate tre infazioni al codice della strada, sequestrato il veicolo e lo stupefacente ai coltelli.